Musica E' bello a tutti ragazzi, c'è iFlex che vi parla Ed oggi siamo nella prima cubo live block di questo canale Siamo in compagnia di GH e Dandy che troverete i loro canali sotto in descrizione Le bollicine sono di Dandy e che è comparso dal nulla Sto facendo questo video diciamo con il raffreddo la palla e il mal di gola Quindi lasciate un bel pollice in su Che alla fine è sempre gratis Sono in team con GH e Dandy fa Lost Cioè quello che spara i fuori d'artificio quando uno attacca l'altro e così via Giacca intendo giambando Bravo CH Io già ho trovato la spada laghi E io ho trovato Già la metto in diamante e mi posso fare il Jeff Diamond Dico che dispenser sono stati riempiti da mio fratello Quindi io non so come sono le cose all'interno Samu killer vabbè sta morendo in continuazione Ma c'è il mantello in inventario? Già me l'ha venuto il dubbio Come siamo Dandy? Come è la situazione? Ci sono rasciatine? Cosa Dario Giali mi hai rimosso tre blocchi No due blocchi Ok ora di squadro di GH mi devi dire un team che voglio di distruggo Che team distrugge? Il rosso o il viola? Distruggi distruggi Quale? Rosso o viola? Quale vuoi tu? Tanto io ho già tutto in diamante Vabbè io distruggo il Il No Il rosso No il viola è solo uno Perciò vado a distruggere il Il rosso Ok Così un po' di giustizia c'è Piano piano non se ne ho accorto nessuno Stavo cadendo Attenzione Ok quindi Mentre che io distruggo i blocchi Dandy spare fuori l'artificio Si è rotto il giusto? Eh perché ancora non te ne sei accorto dove sono Eh ma perché si sente usibile Ah vero Gli è rimasto solo il blocco di diamante Però cioè Non lo stanno manco cagando Vabbò Team rosso Fuori Allora Ci vi è giusto E' espulso Espulso Dai ma perché cavolo mi killa Beh comunque E' maggio i tuoi ali Morti Poi Hai del legno Eh no perché ho trovato subito melopi e pozzare l'invisibilità e sono andato subito a distruggere un team Alla fine ho preferito distruggere il rosso al posto del viola perché nel rosso sono due E nel viola è da solo Ho trovato il bastone quello con atterramento 2 ottimo Oppure tu l'hai trovato Ok Vuoi qualcosa? Vuoi qualcosa per attaccare? Un arco mi servirebbe Ma c'è la spada laghi non mi serve sto cosa Ok Melopi 64 frecce Le frecce si damele e gli vado di suggerire il numero No aspetta hai dei blocchi Sì Ok dammi Ottimo Stavi sparando fuori l'artificio Dandy Per caso Oh no Ok intanto sto arrivando dal team viola che ha combinato una cascata con quella lava però vabbè Nooo mi ha killato Vabbè io ritorno Beh se vuoi vieni da me che io ho bel enderperle Ma ne ho 9 tanto di enderperle Ciacca lo spaccio pure di enderperle Beh Ma che cazzo fai piazza di sti blocchi imbecille madonna Cioè tu non ne capito se è successo I blocchi non me li piazzava buoni Ciccicciccici Vabbè di chi Vabbè di chi Degu un meno Ma perché Ma perché Ha fatto la bella Lò capito Allo aro e poi Metti i blocchi non ho scoperto mola perché ho penne notte l'obiettivo allagando Niente a posto scherzavo Vabbè la questa qua l'ultima volta che vado da sto poverazzo E poi vado dai gialli Jack attenzione perchè il viola è un possibile rivale Perchè già sono andato un sacco di volte da lui Credo che Tutto quanto guardate il nucleo di Ossiglia non lo riuscirà a spaccare Se ce la fa Vediamo il premio Oscar Manco ti hanno visto Ok No ma qui Aspetta ma come ce l'hanno stile Come sono morti Sì Perciò SamuKiller Perchè mi dovete killare se avete perso Vabbè SamuKiller E poi ManuKiller Ok Quindi è rimasto solo il viola Abbiamo vinto Bello una partita breve Dai da me lo faccio Gli attivi permessi che posso usare contenitori Dando Ok sono entrato nel suo nucleo ormai Il bardo con il dispenser No 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 scherzavo Aia 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 In g.h No No aspeggiata Lo distruggere's N هي sogenan No vabbè Per come passione glielo ripardo Dove Alla due anni ma se ormai abbiamo vinto ok boh ma io per quale finale abbiamo già vinto ho 27 diamanti perché mi è dispizzato vabbè quindi ragazzi quindi per questo video è tutto vediamo quanti like riusciamo ad arrivare per questo nuovo mini gioco vabbè sicuramente fra due giorni ce l'hanno altre persone altri youtuber più grandi dicendo che sono stati i primi a portato su ps4 voleva aprire giustato questa parentesi chiusa parentesi lasciato un like un commento iscrivetevi al canale da iflex è tutto bello bello giacca tu pure devi salutare sono chiaro la famiglia devi salutare dai saluta saluta giacca vabbè io sono giacca bella